Siamo arrivati al sesto appuntamento con il fact checking, il controllo della veridicità delle affermazioni, un controllo condotto dai ricercatori della Facoltà di Economia dell'Università di Torvergata, guidati dalla professoressa Pattuglia, controllo a cui appunto si sono sottoposti questa sera Grasso e Gasparri. Allora direi di sentire subito la prima affermazione di Pietro Grasso. Se questi soldi che ammontano a 1000 euro a cittadino italiano, che è un prezzo che si paga, fossero destinati per esempio al lavoro dei giovani, forse sarebbe molto meglio. Allora bisogna trovare gli strumenti per scoprire la corruzione. Ecco, in questo caso il giudizio è non vero, perché Grasso fa questa stima, il costo della corruzione di 1000 euro a cittadino e lo fa ripartendo sul singolo cittadino la cifra di 60 miliardi che riguarderebbe il nostro paese, che molto spesso anche in altre circostanze abbiamo sentito citare da esponenti politici, ma che appunto i ricercatori della Facoltà di Economia non giudicano corretta proprio perché è una stima sbagliata, sbagliata, smentita proprio da un rapporto al Parlamento del Servizio Anticorruzione e Trasparenza. Veniamo ora alla prima affermazione controllata di Maurizio Gasparri. Noi dal 2008 al 2011 abbiamo portato, con norme più severe, al sequestro di 25 miliardi di euro di beni appartenenti alle organizzazioni criminali. Questa affermazione è stata giudicata parzialmente vera. Il dato, la cifra che fa Gasparri, infatti non è esatta, perché il valore dei beni sequestrati alla criminalità è di 22,1 miliardi, come riporta la documentazione del Ministero degli Interni.